Ma non basta eseguire le pievolontà dei defunti, è necessario eseguirle prontamente e senza restrizioni. Alcuni teologi hanno pensato che qualsiasi ritardo nell'esecuzione delle pievolontà dei defunti non dovrebbe nuocere loro, dato che essi, da parte loro, hanno fatto tutto il possibile per assicurarsi i soffraggi e che quindi, non per colpa loro, avviene il ritardo. Ma contro l'opinione di codesti teologi stanno le apparizioni delle anime, venute a lamentarsi coi vivi della negligenza posta nel soffragarle. Diretta l'uno è che in questo caso dipenderebbe da noi prolungare il purgatorio di un povero defunto senza che egli ne abbia alcuna colpa. Così è, rispondiamo, ed appunto in ciò consiste il diritto di quegli avidi eredi che differiscono all'infinito l'esecuzione dei pie legati. E questo è tanto più vero in quanto che, molte altre volte, i legati dal defunto stabiliti per l'anima sua non sono altro che restrizioni da lui dovute. La famiglia che lo ignora o vuole ignorarlo ama meglio parlare di captazioni e di avidità clericari e sotto tali pretesti far annullare il testamento, mentre spessissimo si tratta di strette prestituzioni. Supponiamo che il moribondo abbia commesso delle ingiustizie, cosa che accade ben di frequente anche fra le pensioni che agli occhi del mondo passano per onestissime, e che prima di comparire dinanzi a Dio, volendo riparare al malfatto e non volendo svelare ai figli o ai parenti il suo triste segreto, copre la sua restituzione con l'appartenenza ad un legato pio. Che cosa avverrà di quell'anima se questo legato non sarà soddisfatto? Dovrà essere trattenuta per lunghissimo tempo nel purgatorio? Sarebbe cosa ben dura, è vero, ma moltissime anime apparse ci fanno fede di questo fatto, assicurandoci che finché la giustizia di Dio è lesa non possa essere ammesse all'eterna beatitudine. D'altra parte, essendo esse pure colpevoli di tanto ritardo nel soddisfare i debiti verso i loro creditori, ai quali avrebbero dovuto fare restituzione in vita, senza aspettare il momento in cui non rimarrebbe loro più tempo di farlo da sé, è giusto che talvolta Dio si serva di queste nostre dimenticanze per punirle adeguatamente. Se esse infatti soffrono, il povero prossimo, offese e pregiudicato da loro, non ha sofferto e non soffre forse, egli pure? Res clamat domino, e finché la restituzione non sia compiuta, questo grido di lesa giustizia ripercuoterà sempre all'orecchio di quelle anime. Ci par dunque più sicuro a tenersi all'assioma teologico, che cioè senza restituzione non vi è paradiso. Dovere gravissimo è quello di soffragare i propri genitori. Santa Elisabetta d'Ungaria, quando morì sua madre Gertrude, quantunque avesse fatte per lei larghissime lemosine, mortificazioni e preghiere, se la vide una notte comparire col volto triste e smonto, e postasele ginocchioni dinanzi tutta piangente e dirle «Figlia mia, figlia mia, ecco, ai tuoi piedi la madre tua oppressa dal dolore, abbi compiassone di lei. Io ti supplico di molteplicare i tuoi soffraggi, onde la misericordia divina mi liberi dagli spaventosi tormenti che soffro. Ahimè, quanto sono da compiangere coloro che esercito la notorietà sugli altri. Io sto ora duramente spiando i falli commessi quando lo sul trono. In nome delle angosce e dei dolori fra i quali ti ho messa al mondo, in nome delle veglie e delle fatiche sostenute per la tua educazione, ti scongiura a fare il possibile per liberarmi da tanti tormenti». Santa Elisabetta, appena cessata la visione, si pose a pregare, a piangere e a flagellarsi così aspremente che il suo corpo sfinito cade in letargo, e mentre stava così subita, ecco comparirle nuovamente la madre vestita di bianco e col volto raggiante d'allegrezza, annunziandole che le preghiere dalle fatte in quel breve tempo le avevano schiuse le porte del cielo. A Santa Margherita da Cortona, che fu parimenti generosissima verso i suoi genitori nell'offrire preghiere e mortificazioni, fu da Dio rivelato che il tempo dell'espiazione di esse era stato considerevolmente abbreviato. La venerabile Caterina Palluzzi, quando perdette il genitore, passò otto interi giorni in preghiere e macerazioni di ogni sorta, in capa i quali, avendo fatto celebrare un servizio funebre, il gran numero di messe, rapita in estasi, fu dal Dio in Salvatore in compagnia di Santa Caterina da Siena, condotta in purgatorio, dove intese la voce lamentevole di suo padre, che tra mezzo alle fiamme la scongiurava di aver pietà di lui e affrettare la sua liberazione. Presa da indicibile angoscia, la Santa si volse al nostro Signore e lo scongiura di avere misericordia di quell'anima, pregando anche Santa Caterina ad intercedere per lei, ma ebbe in risposta che la giustizia doveva avere il suo corso. Allora egli soffrì nella sua ammirevole carità a subire nel proprio corpo quel che restava da spiarsi del padre e il Salvatore della Saudì, poiché l'anima dei padri volò dopo pochi istanti nel cielo, mentre da quel momento in poi la vita di Caterina non fu altro che un lungo e continuato martirio. E perciò, quando noi desideriamo conoscere la sorte toccata a coloro che abbiamo amato su questa terra, invece di alimentare questa curiosità che dispiace a Dio e che non gioca per nulla a quelle povere anime, faremo molto meglio a pregare il Signore che le sollevi da quelle pene.